Oggi Shuffle a due mani Ciao Enrico Parolin, oggi ho deciso di fare lo Shuffle a due mani per un paio due tre motivi fondamentalmente come spesso capita nei miei video. Il primo è che effettivamente è uno stile che suono spesso e me lo chiedono anche o allievi o amici mi chiedono appunto come fai a fare lo Shuffle a due mani e appunto questo è il video per spiegarlo. Il secondo perché effettivamente è una tecnica che qualche anno che ce l'ho in mano ed in realtà ci ho studiato molto. Serve per utilizzare le due mani uguali insomma all'unisono ma effettivamente per la sinistra utilizzare un accento. Andiamo nello specifico. Il primo consiglio che mi sento di dare è bisogna sviluppare la silistra o destra se sei ovviamente mancino. Per sviluppare appunto la mano cosiddetta debole vado ad utilizzare lo Shuffle senza accenti in questa maniera. aggiungiamo la cassa nel primo e nel terzo. aggiungiamo anche l'accento sul secondo e sul quarto movimento. bene a questo punto aggiungiamo il ride a quarti per il momento. ora aggiungiamo lo Shuffle. Parto dalle mani per aggiungere la cassa ed aggiungere poi l'accento. un consiglio quando stai facendo lo Shuffle sul rullante aggiungiamo il rimshot cioè il cerchio e pelle. gli da quella consistenza e sforzi un po' di meno per quanto riguarda le dita o comunque il movimento. come hai notato utilizzo il movimento della tecnica Moller in maniera che faccio meno sforzo e faccio fare i rimbalzi per poi andarlo a chiudere. a questo punto andiamo ad ascoltare lo Shuffle su una base. Questa volta l'ho ricavato da questo fantastico libro che si chiama Early Rhythm and Blues Drumming. edito da Daniel Glass ne ho già parlato e da Zoro. È bellissimo. È da qui che io effettivamente ho preso lo stile Shuffle e mani unisono. edito da Zoro. 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 A questo punto non mi resta che ringraziare, augurarti una buonissima giornata, dirti di iscriverti al canale così rimani aggiornato, c'è la campanellina e clicca su iscritto. facebook, instagram, il mio sito internet www.enricoparolindrans.com scaricati il pdf, è sempre figo avere sto pdf, appunto che parliamo della lezione di oggi, cos'altro? Niente, ci vediamo presto, alla prossima, da Enrico è tutto, ciao ciao!